il grande fratello è tornato al centro dell'attenzione per un video che ha scatenato polemiche tra i concorrenti lorenzo spolverato elena prestes le frasi ambigue pronunciate da spolverato hanno fatto sospettare i fan su una possibile conoscenza pregressa con elena alimentando così le speculazioni le dinamiche all'interno della casa si sono complicate ulteriormente con il triangolo amoroso formato da lorenzo elena e shy la gatta la gelosia e le tensioni tra i concorrenti hanno reso l'atmosfera ancora più intricata con emozioni e dinamiche sociali da gestire il pubblico del grande fratello è sempre molto attento alle vicende dei concorrenti e le parole di lorenzo hanno scatenato un acceso dibattito sui social media molti si chiedono se ci siano stati effettivamente legami pregressi tra i concorrenti mentre altri sostengono che le affermazioni di lorenzo possano essere state fraintese la curiosità intorno a questo mistero continua a crescere alimentando le discussioni tra i telespettatori e gli appassionati del grazie a tutti Grazie a tutti.